Il governatore della campagna applaudi al decreto che estende l'obbligo vaccinale entro il 15 ottobre a lavoratori pubblici e privati. Anzi, Vincenzo De Luca, nell'incontro con i ministri Gelmini, Brunetta e Speranza, avvenuto dopo il CDM per illustrare il decreto nei dettagli, ha chiesto di anticipare i tempi e renderlo obbligatorio già dal 1 ottobre. Il ministro della Salute però è stato chiaro, le norme si applicheranno tra un mese. Scelta presa per consentire anche tramite il parere del Comitato Tecnico Scientifico di permettere a chi non l'ha ancora fatto di prenotarsi, vaccinarsi e attendere i tempi tecnici per entrare in possesso della Green Card. Infatti, il Green Pass si ottiene quando sono passati 14 giorni dopo la prima dose di vaccino, oppure dopo un tampone molecolare che vale 72 ore o 48 per un rapido. Il nuovo decreto chiarisce la durata della certificazione per chi ha contratto il Covid. Cosa succede al lavoratore che contrae il Covid dopo la seconda dose di vaccino? L'essersi infettato vale come terza dose. In questo caso, il Green Pass vale 12 mesi. Se ci si ammala oltre il 14esimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciato il Green Pass e ha validità 12 mesi dalla guarigione. Questo però non vale se tra la prima dose e la malattia non sono passati 14 giorni. Ovviamente, il passaporto vaccinale è rilasciato a tutti coloro che hanno completato il ciclo vaccinale. Il governo ha anche modificato la norma che prevedeva fino a ieri il rilascio del Green Pass per chi è stato malato e si sottoponeva a una sola dose di vaccino. Fino a ieri dovevano passare 14 giorni dal giorno della prima dose per avere il Green Pass, invece ora chi ha contratto il Covid e fa la prima dose può avere subito il certificato della carta verde.